Sindaco russo ormai è imminente, partiranno questi lavori sulle scogliere di Francavilla, quando partiranno e quali zone saranno interessate? Sì ci siamo, finalmente stanno per partire i lavori per il contrasto all'erosione costiera, entro fine anno dovrebbero partire i lavori, manca solo la determina, si tratta di interventi che riguarderanno in particolare la zona sud e la zona centro di Francavilla, è una piccolissima parte della zona leggermente più a nord ma sempre zona centrale, le parti che sono maggiormente colpite dall'erosione e per le quali non si era ancora intervenuti in maniera massiccia, occorrerà poi ovviamente intervenire nuovamente anche nella zona più a nord a confine con Pescara, ma insomma stiamo già lavorando per cercare ulteriori finanziamenti. Si tratta di un intervento importante perché si è un importo di 700 mila euro, quindi insomma confido che verrà realizzata un'opera abbastanza importante e di grande aiuto, soprattutto per la zona sud e centrale, insomma dove c'è un problema concreto e credo che questo intervento aiuterà molto. I tempi di realizzazione dei lavori? Mi dicono che ci vogliono circa tre mesi, quindi entro marzo dovrebbero finire e quindi insomma l'erosione dovrebbe essere contenuta.